260 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. Questo è il numero dei nuovi casi in provincia, fornito dall'ASPE Nissena secondo l'aggiornamento del 2 agosto relativo alle 24 ore precedenti. 66 pazienti di Gela, 64 di Caltanissetta, 23 di Butera, 18 di San Cataldo, 17 di Niscemi, 17 di Sommatino, 15 di Mazzarino, 9 di Riesi, 6 di Serra di Falco, 5 di Santa Caterina Villarmosa, 5 di Delia, 4 di Marianopoli, 4 di Mussomeli, 3 di Resuttano, 2 di Vallelunga Pratameno, 1 di Sutera e 1 di Accoviva Platani. 4 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 2 di Caltanissetta e 2 di Gela, 6 invece i pazienti dimessi sempre dalla degenza ordinaria, 3 di Gela, 2 di Caltanissetta e 1 di Serra di Falco. Guariti infine dal Covid-19, 133 pazienti di Gela, 84 di Caltanissetta, 27 di Niscemi, 20 di Riesi, 18 di Mazzarino, 17 di Sommatino, 13 di San Cataldo, 12 di Butera, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 7 di Mussomeli, 4 di Milena, 3 di Marianopoli, 3 di Serra di Falco, 3 di Villalba, 2 di Bonpensiere, 1 di Campofranco, 1 di Delia, 1 di Montedoro e 1 di Sutera. E ancora dal sito tematico del Ministero della Salute dedicato al Covid-19, il bollettino quotidiano sempre del 2 agosto riporta un incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, pari a 64.861 casi in tutta Italia, di cui 4.737 in Sicilia.